Bentornati cari ascoltatori di Radio Pugironer, parliamo dell'incredibile avventura dell'Italia ad Euro 2024 che potremmo intitolare da bastoni a barella, anche se come titolo potrebbe anche sembrare un po' inquietante da bastoni a barella, ma questi sono i cognomi dei grandi personaggi di questo evento gli azzurri hanno fatto il loro debutto contro l'Albania in una partita ricca di emozioni e colpi di scena vedremo come la formazione di Luciano Spalletti è riuscita a superare l'ostacolo albanese con una vittoria in rimonta grazie alle reti di bastoni e barella, che ripeto, bastoni e barella sono due cognomi che accostati vicino sono un po' inquietanti, vabbè, discuteremo i momenti chiave del match, le prestazioni dei singoli giocatori le tattiche adottate, le prospettive future per la nostra nazionale che ora si prepara ad affrontare avversari temibili come Spagna e Croazia e allora restate con noi per un'analisi dettagliata e appassionante la partita contro l'Albania non è iniziata nel migliore dei modi per l'Italia dopo appena 23 secondi dal fischio d'inizio l'Albania è passata in vantaggio con un gol di Bairami sfruttando un errore di Di Marco in fase di disimpegno questo avvio shock ha messo subito alla prova la tenuta mentale, la capacità di reazione della squadra di Spalletti l'errore di Di Marco ha permesso a Bairami di avvicinarsi alla porta e battere Donnarumma con un destro preciso un inizio davvero traumatico per gli azzurri che però non si sono lasciati abbattere nonostante lo svantaggio iniziale l'Italia ha dimostrato carattere e determinazione gli uomini di Spalletti hanno subito reagito mostrando una grande intensità di gioco al minuto 11 sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bastoni è riuscito a segnare di testa ristabilendo la parità questo gol ha dato nuova linfa alla squadra che 5 minuti più tardi è passata in vantaggio con un gran destro dal limite di Barella l'Italia ha così completato la rimonta in soli 5 minuti mostrando non solo cuore ma anche una notevole qualità nel gioco anche perché fra il destro Bastoni, Barella insomma di amore ne vedo poco ma sto sempre ironizzando su questi termini sia che vengono utilizzati dai giornalisti nel caso si parla di un gran destro dal limite di Barella ma è un termine calcistico naturalmente però dopo aver detto destro parli di Barella e parli di Bastoni insomma è un po' inquietante ripeto attraverso questi cognomi dei due protagonisti di questa partita diventa tutto un po' inquietante ma non ci fate caso è solo una casualità il primo tempo è stato caratterizzato da un dominio quasi totale dell'Italia dunque e gli azzurri hanno mantenuto un possesso palla efficace costruendo numerose occasioni da gol al 33esimo Frattesi ha avuto una grande opportunità per segnare il terzo gol ma il suo tiro ha colpito palo e poco dopo al 40esimo Scamacca ha visto il suo tentativo parato dal portiere albanese Stracoscia e nonostante queste occasioni mancate l'Italia ha continuato a spingere dimostrando una chiara superiorità tecnica e tattica nella ripresa l'Italia ha abbassato leggermente i ritmi concentrandosi più sul controllo della partita che sulla ricerca del terzo gol al 60esimo Chiesa ha sfiorato il gol con un sinistro dal limite che è terminato al lato di poco gli azzurri hanno gestito bene il possesso di palla impedendo all'Albania di creare ulteriori pericoli significativi solo nel finale Manai ha avuto un'occasione per pareggiare ma fortunatamente per l'Italia il suo tiro è terminato fuori e gli ultimi minuti sono stati di relativa tranquillità con l'Italia che è riuscita a mantenere il vantaggio fino al fischio finale e nonostante la vittoria ci sono alcuni aspetti su cui l'Italia dovrà lavorare l'errore iniziale di Di Marco ha dimostrato come certe disattenzioni possano costare caro soprattutto contro avversari di livello superiore come la Spagna inoltre dopo aver ribaltato il risultato gli azzurri non sono riusciti a chiudere la partita con un terzo gol mantenendo in vita l'Albania fino al termine del match questa mancanza di cinismo potrebbe rappresentare un problema nelle prossime partite del girone dove ogni occasione dovrà essere sfruttata al meglio e ci sono degli avversari molto più potenti d'altro canto ci sono molti aspetti positivi da sottolineare la reazione della squadra dopo il gol subito è stata impressionante dimostrando grande carattere e unità il primo tempo ha visto un'Italia brillante capace di giocare un calcio veloce con un fraseggio corto, efficace e un recupero palla alto questi elementi saranno cruciali nei prossimi incontri specialmente contro avversari come la Spagna che non perdoneranno errori o cali di concentrazione tra i protagonisti della partita non possiamo non menzionare Bastoni e Barella dunque autori dei gol che hanno permesso all'Italia di ribaltare il risultato ma non a Bastoni e Barella naturalmente ma continuo ad ironizzare su questi cognomi perché non ne posso proprio fare a meno Bastoni oltre al gol e anche nella situazione in cui siamo in questo momento in Italia insomma la parola Bastoni è accostata a Barella anche dopo il caso che abbiamo visto di Donno il parlamentare aggredito alla Camera dei Deputati non con i bastoni insomma ma con i cazzotti e i calci e poi portato via con una Barella in ospedale insomma in questi giorni fa riflettere questa rappresentazione dell'Italia attraverso questi due protagonisti che se le sono date ma in modo amichevole attraverso lo sport e il calcio che è per fortuna una cosa sana e non deve essere mai la violenza anche lì non deve entrare mai anche Frattesi ha giocato una partita notevole nonostante la sfortuna del palo dicevamo comunque Bastoni e Barella Bastoni oltre al gol ha mostrato anche sicurezza in difesa mentre Barella è stato fondamentale nel centro campo con la sua capacità di inserimento e la sua visione di gioco Donnarumma escluso il gol subito ha avuto poco lavoro da fare ma ha dimostrato di essere sempre pronto quando chiamato in causa la vittoria contro l'Albania era fondamentale per partire con il piede giusto nel torneo soprattutto considerando le prossime sfide contro Spagna e Croazia due squadre di alto livello la Spagna in particolare è impressionato al debutto con una vittoria per 3 a 0 contro la Croazia dimostrando di essere in ottima forma sarà quindi essenziale per l'Italia migliorare ulteriormente e correggere gli errori visti contro l'Albania per affrontare al meglio queste partite cruciali la prossima partita contro la Spagna rappresenta un test importantissimo per gli azzurri la squadra di Luis Enric è conosciuta per il suo possesso palla il suo gioco tecnico quindi sarà fondamentale per l'Italia mantenere alta l'intensità e sfruttare ogni occasione Spalletti dovrà preparare al meglio la squadra lavorando sia sull'aspetto tattico che su quello mentale per assicurarsi che gli azzurri entrino in campo concentrati e determinati in conclusione la vittoria contro l'Albania ha regalato all'Italia un debutto molto positivo ad Euro 2024 ma ha anche messo in luce alcune aree su cui lavorare la reazione della squadra è stata esemplare ma per andare avanti nel torneo sarà necessario migliorare ulteriormente con Spagna e Croazia all'orizzonte gli azzurri dovranno mostrare il loro meglio mantenendo alta l'intensità correggendo le disattenzioni viste contro l'Albania dunque sicuramente saremo qui a raccontarvi in tempo reale cosa succederà in questo proseguo di campionato Euro 2024 restate sintonizzati su Radio Puggino NER per ulteriori approfondimenti e analisi sulle avventure della nostra nazionale grazie per averci seguito al prossimo episodio di Radio Puggino NER grazie per averci seguito